rosa che fa ranca ci mette a dieta che se ne viene un infarto io non l'opero sai tommaso hai pensato a tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme negli ultimi dieci anni non me ne è venuto in mente un altro giorno ho visto il documentario sulle amebe ci sono alcuni esemplari che hanno una vita più attiva della sua domani parto non avevi la sala pensavo di lasciare medicina ho deciso di entrare in seminario diventare sacerdote un figlio prete sarebbe come fare l'arrotino lo sampogliaro io non lo voglio un figlio sampogliaro dimmi papà veloce riesci a capirci qualcosa tu adesso papà no perché mi sono scaricata gesù di nazareth e mi sta prendendo tantissimo il film di seppirelli ah l'hai visto non mi dire il finale ha organizzato tutto don pietro insomma ogni volta che gesù andava dai discevoli quelli quanto è sto prete è venuto carino no ma è lui il prete è una copertura quando lo scopro lo sputtano con mio figlio il problema è risolto e come fai le venerdì dovrebbe far finta di essere mia moglie professore ma che dice mi scusi don pietro io sono disperato io ho un fratello ritardato sì mia moglie a volte mi picchia come sto andando sto pensando di ammazzarmi e beh mi sembra minimo senti va vatti volevo presentare un mio amico tommaso scusa detto ho piato io conto fino a tre e poi l'appendiamo l'altro uno due meglio ma no bene vai tu devi essere contento per questo dolore vuol dire che il signore ti sta mettendo alla prova ma vaffa buona serata e com'è fare il prezzo ma ti dirò questa rottura di palla della prova di domenica ma sto scherzando